Domenica 6 agosto a Pescara ci sarà la prima regata per la pace, manifestazione organizzata dalla federazione canottaggio a sedile fisso e dall'SD Porto Antico di Pescara con il patrocinio dell'amministrazione comunale della regione Abruzzo. L'evento è stato illustrato oggi a Palazzo di Città dall'assessore con delega al fiume al mare Nikla Dinisio che ha spiegato anche il coinvolgimento con la martoriata popolazione dell'Ucraina. Una prima edizione per dare un segnale di pace contro la guerra e si farà una regata dove tramite lo sport diamo questo segnale. Io sono orgogliosa perché dobbiamo dimostrare a tutti quando l'essere umano può riprendere una dignità a prescindere da qualsiasi nazione se arrivino. Quindi grazie a questa iniziativa un piccolo passo e una piccola solidarietà che verrà poi devoluta al popolo ucraino. Un evento questo fortemente voluto dalla marineria e dalle associazioni operanti sul territorio. Questa è una manifestazione sportiva che incontra anche il sociale quindi diciamo organizzata dalla federazione italiana canottaggio a sedile fisso. Noi siamo gli organizzatori a livello locale. È una gara diciamo a cronometro su imbarcazioni GOZ nazionale e lancia 10 remi. Quello che vogliamo fare in questa occasione è unire appunto lo sport col sociale. Quindi il ricavato di questa manifestazione sarà devoluto in questo caso abbiamo chiamato appunto regata per la pace perché voleva essere questo simbolo. In questo momento c'è questa guerra in atto in Ucraina quindi noi attraverso l'ASI diciamo daremo un contributo economico per l'aiuto a queste popolazioni. Diciamo questo è il nostro obiettivo. Ringrazio l'assessorato che ci ha aiutato nell'organizzazione di questa manifestazione. Vittorio Di Boscio che è il nostro direttore artistico che ha realizzato questa bellissima opera. L'associazione Il Maestrale che attraverso Fabrizio Verzulli che ha messo a disposizione le imbarcazioni e lancia 10 remi che sono le classiche imbarcazioni che vengono utilizzate anche per la regata dei gonfaloni. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo evento.